Tantam mediatico attraverso i social sia Facebook che Instagram è stato massiccio, c'è stata tantissima solidarietà da parte di musicisti, amici e fan e questa cosa qua è bellissima, veramente una cosa meravigliosa e li voglio ringraziare tutti quanti. Sono finalmente tornate nelle mani dei legittimi proprietari pronte per essere nuovamente suonate, si tratta delle chitarre rubata e negrita. Il furto si era consumato lo scorso Natale a Castelnuovo di Subbiano, la band aveva lanciato un appello sui social network pubblicando le foto degli oggetti rubati, sette chitarre ed alcuni amplificatori. Adesso gli strumenti sono stati ritrovati dalla polizia di Perugia grazie alla segnalazione del titolare di un negozio di strumenti musicali. Lo scorso 3 gennaio l'uomo infatti si è trovato di fronte a due persone che hanno provato a vendergli due delle chitarre rubate. Si è accorto immediatamente di che strumenti si trattava e ha praticamente preso le chitarre, l'ha messo dietro il bancone, ha detto che questi strumenti sono rubati, anche i due ladri si sono dati alla fuga ma fortunatamente è stato preso il numero di targa e sono stati bloccati sotto casa loro. I malviventi sono stati così subito individuati anche grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Si tratta di un 50enne e di un 36enne, entrambi con precedenti per furto e ricettazione. Nel corso delle perquisizioni, a conclusione dell'attività investigativa portata avanti dai carabinieri della stazione di Subbiano assieme al nucleo operativo radiomobile di Arezzo, i militari hanno recuperato anche il resto della refurtiva, 5 chitarre ed alcuni amplificatori, nascosti all'interno di un forno a legna in un capannone di un terreno tra i comuni di Subbiano e D'Anghiari. I due malviventi adesso dovranno rispondere di ricettazione, mentre gli strumenti sono stati finalmente restituiti ai musicisti. Con quelle chitarre ci abbiamo scritto canzoni, ci abbiamo girato il mondo e sono state in tutte le tournee nostre, quindi è una cosa che va al di là del valore economico intrinseco dello strumento, ma che è un valore che non puoi quantificare. Sono parte del musicista.